musica cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Story Mode speravo che con i nostri urli si svegliassimo un pochino ma mi sa che questo è completamente andato sembra un pesce lesso di prima categoria mandalo a casa di Gianmarca che vedrai chi si sveglia se non avete visto il nostro primo video di oggi che è la seconda parte di Minecraft Story Mode trovate il link in descrizione e anche della prima parte che abbiamo caricato ieri sera a sorpresa in un'ora tarda ma giusto per farvi avere il video appena è uscito l'episodio 4 e noi trovate il link di G2A dove trovate questo gioco scontato e ora andiamo a parlare con questi tipi ciao esamina il gruppo dammi il braccio che ti faccia un premio ma che le persone diventano inutili se hanno fame grande verità disse il saggio le persone diventano inutili quando mangiare devono state bene? sto morendo di fame io vado verso le patate e poi tornare indietro no mai più come ti ha visto ah no si allora e vai prendere paura e poi poi tornare indietro guardate come pucci come sono precisi quei cavalli si quei cavalli sono inquietantissimi ok andiamo la 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 allagante com'è che non riesci ancora a camminare? patate prendile guardale dolci patate posso prenderle o mangiarle prendile eheheh andiamo a prendere non è molto ma aiuterà aiuterà abbiamo vinto finalmente il Witherstone non può contrastare hai calpestato le patate hai calpestato anche laggiù ci sono delle patate si io piglio tutto patate ora guardate le prendo tutte poi muoio io di fame perché ovvio il solito eroe è che prende tutto e non si tiene niente se esattamente una persona normale in questo momento direbbe visto che comunque non è che io per dire gli altri sono tutti messi male sono l'unico che è più forte più in gamba si però sei l'unico che riesce a muoversi al momento praticamente io sarei dell'idea di mangiarmene una o mezza almeno e tornare indietro e invece no perché sono un errore fino nel livello la torta c'è una torta lassù c'è una torta però come minimo ci mangiano le patate quindi io intanto dice che dovrei andare sono un po' incerto ma è una torta aiuta però vabbè io intanto vado a portare le patate chi troppo vuole nulla stringe ma sono quattro le persone affamate sono inute quindi se arriva la strega e mi mangia magari lo mangia gli altri verranno invitati dalla strega e mi mangeranno perché dicono non ci ha portato le patate non è che devi decidere a chi darle tipo The Walking Dead e Ruben muori eh eh c'è poco da fare eh senza cosa hai trovato? stea incredibile la patata almeno il cibo almeno il cibo cosa doveva essere? scusa give a chi le deve dare? dai la patata dai la patata potete una sì ma non dalle tutte eh dalle a lei ah ma perchè devi dare ad Ivo? io sono solo povere te non sei ricorda bene ovviamente sei begliate ste patate oh toh piglia in testa pfff conficcato e morto ma cuocete le fanno schifo crude no vabbè ma così vincono di più ok non dalle a Ruben non dalle a Ruben dalle a Soren no chi la deve dare? vai Soren tieni è uno squid? perchè dovrei avere uno squid? ovviamente vabbè stupito è una patata no? mamma mia sono finite le patate mi piace vuoi te dare una mano? tutti e con mamma mia tutti con i cavalli terribili questi cavalli allora mi tocca andarci al posto però almeno li ho dato da mangiare un minuto così tanto si rifocillano quindi vai tu sei l'unico a digiuno comunque sono l'unico a digiuno altre patate non è che le patate hanno della strega magari eh immagino così si avrebbero tantissimo ci metterà nella torta o ci farà diventare delle patate pure noi ecco le patate erano tutte esploratori che erano venute prima di noi ah non dirlo non lo stanno mangiando lo stanno mangiando non dirle queste cose ok proviamo ad andare oh una torta viva qui ah che ti amo si fa qui niente di buono succede quando ci sono coinvolte delle streghe una torta ma non sarà mica una bugia ma tu non l'hai giocata a porta dice che non le vai la pena se lo dice lui le streghe odiano le persone che vengono qui senza invito e poi siamo pieni di patate oh vabbè c'è già malta che sta andando a fare il massaggio tipico di pietra già il gigillo secondo me dovrò prenderla e andare via eh allora cosa devo fare cosa faccio prendila 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 io mi sei fidato tu guardami eh mi raccomando non sei d'accordo è una pessima idea è una pessima idea perchè le streghe non piacciono quella torta è avvelenata è vero che ti sei avvelenata ma che sbrigati piglia la torta vai 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 oh che carino abbiamo Ansel e Kretel ah e c'è anche il forno già pronto che bolle eh vai su sbrigati che arriva già male quante cose hanno schifezze stanno facendo qui eh zuppa di fagioli ma che buona zuppa di fagioli una pozione per saltellare fantasticamente prendi la maledetta torta salta ah 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 stenta eh strega hai ragione strega scusa possiamo parlarne parliamone strega parliamone 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 pide la torta pide la torta eh allora non è servito a niente hai la pozione vabbè ho la non ho la torta e la pozione ops streghetta come'è che c'è anche la 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 ella è 성anda eh mi sa che già si gilla una gradita tale�� мы Master Tigers ma salle lo buttate giù dai dai super mega slow mo non è correte che Heavenly che ci fate qui scappate scappate via aveva bisogno che gli dicesse lui ta gente Maledetto quell'uomo pazzo Andiamo Mi chiedo se si è servito a qualcosa Dagli le patate e non le torte O se dovevo lasciare stare Comunque a me ne abbiamo una pozione di leaping Che quindi potrebbe essere comoda per il futuro Come impiovono polpette Praticamente uguale Che razza di posto è? Praticamente qualcuno ha preso Un pezzo di mondo L'ha alzato con mc edit World edit e poi ha sbagliato Qualcosa ha pagato tutto Eh si quando non si sanno programmare Le modi succede Cosa ci hanno messo? Della stone degli alberi Se non avessi ancora fame Il torte e la patate Che cosa vuoi? C'è il maiale non lamentarti come C'è il torte e il maiale apposta Si aveva ancora una riserva di quasi cibo effettivamente Eh bella vista eh È un bel panorama Sei già stato qua? Eh forse lui lo sa che posto è Che cosa è? Questa cosa? Cosa sto guardando esattamente? Questo è un fenomeno naturale L'intersezione di due grossi muri Alli limiti del mondo Noi abbiamo le zolle E loro hanno i limiti del mondo Esatto che bello Ci sa la terra è piatta giustamente Poi si cade giù Non sembra spaventoso Non so che cosa dire Perché mi è finita la saliva in bocca Dice che non ce lo perdevamo Se non pendevamo la strega Dice che c'era con noi Vabbè ma tanto saprà Ritrovarci C'era con noi la strega Probabilmente Questa strada sospetta Non ce ne sono altre Bene Vorrebbe che fosse Che fortuna In un posto gigante Come questo Troviamo esattamente L'entrata E beh Andiamo Il tipico sensatismo Dice Ciao gruppetto Che cammina a rallentatore Perché ha fame Ok Ocuno che inciampa Così per sbagliare Sì si cade muore Questo è Un labirinto Non ci posso credo Un labirinto Ha usato un cobra Per costruirlo È una roba pazzesca E noi siamo senza Ibor E senza cibo Bene Non abbiamo la guida Dai siamo da soli Contro questo labirinto gigante Bene Bello Mi fa molto piacere Saperlo Quindi Cerchiamo un'altra Via Prima di andare Nel labirinto Non usciremo mai Magari Immagino Sì Forse Troveremo Un'altra Strada Sì Uno di loro Deve morire E fargli strada Dal cielo È l'unica strada È Dall'alto Potremmo andare In alto È vero Le vice Ho detto La sciocchezza Che poteva avere senso Davvero Qui c'è un muro rotto Chissà chi l'ha rotto Il gravel Che bello Siamo andati Dall'altra parte del mondo Per trovare il gravel E ora Saliamo Bevendo vino Ma che vino Ci può andare anche da solo Chi? Aiuto Oh no Ci sono troppi Non siamo combatti tutti Salite Salite dal vino A frotte così Bevete cognac Di qua Di qua Di qua Veea Veea Vai C'è il co Klimba Klimba Posso usare anche la posizione di lipping Magari la usi dopo Klim device Vai Device Non sai l'unico Dai sbrigati Sbrigati Non sai l'unico che è incapace Sbrigati Meno male che gli zombie Non si sanno arrampicare Ok Sì 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 Bene Wow Wow Bravissima Sì Siamo sull'alto muro Siamo dall'altra parte Ah ce l'abbiamo fatta Forse Sì Dove l'abbiamo perso per caso Gets Ciao Ciao E ora che si va Siamo separati Io sono da solo come sempre Siamo da solo Un super salto Possiamo andare di là E vedere se c'è una strada Che si ricongiunge Molto probabilmente c'è Sì Forse Speriamo di non perderci Che mi prude la testa E solo Olivia aveva Pipistrello 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 grattami la testa Succhiammi la sangue Così mi pronda di più Ma che stai dicendo Ah pipistrello Ok andiamo Dove si va Dove si trova la strada Si trova la strada Nananera Guarda quanti Batman Sì Lo ve Di qua Ecco questa è stata giusta Sicuro Lo sento Sono sotto loro Come sono andati giù Ma erano susati giù Ma perché Ma perché E che allora Ma se Vabbè E allora E so Come la vado a scendere poi Lo sanno solo Dai dai Io passo da sopra Vuoi vedere l'acqua Ho incontrato Ruben Una cascata Perché era cascato Purtroppo l'ho raccolto Peccato Che pessima idea E la gente che vive Zoom Sulla casa di Ivo Deve essere comodo Ogni volta che andrà a fare la spesa Dove si fare Tutto questo labirinto Mi sembra che non ci va mai A fare la spesa Trovi Dai che sei andato Se noi stiamo azzeccando la strada Guarda Gli altri si sono già persi Perché non ci si può fare strada Non capisco Perché non potevano chiedere a me qualcosa Ma non importa Volevano andare da soli Non capisco perché sono scesi È molto più comodo Non muovesti all'alto Che poi praticamente Anche questa zona qui in alto È un labirinto Effettivamente Ma meno schifoso Di quello sotto Voglio Via Via Mi vuole abbracciare Non voglio essere abbracciato Dai via Dagli un abbraccio Ma che abbraccio Che schifo Abbraccio Bea Tu hai abbracciato una spada Ehi ahi 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 La mia spada Non c'è più Ta 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 Mi sa che E beh Batman l'ho ucciso con l'arco Adesso Perché abbraccio Lo lasci vivo Dove posso andare Sono là sotto i tipi Lei abbiamo visti Sì Allora Gli ho persi Sì Ci vuole 100.000 anni per fare questa cosa. Praticamente. Pensa se ci fossi io. Il trucco è di andare a sinistra. Cioè nel senso siamo sopra il labirinto per comunque stare sul labirinto. Non è cambiato niente. Ora, visto che la potion of leaping. Ciao. Dura. Oh oh. Non è la stessa, vero? Ciao, 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 ciao. Dov'è il mouse? Non vedo il mouse. Non puoi dare l'incontro? Ah, non devo usarlo. Attacca. Ok, dai, c'ho quattro frecce. Vai, 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 vai. Dai, l'ultimo, l'ultimo, la butto giù. O è caduta addosso a qualcuno? Sì, ma adesso stai disarmato. Volevano che mi disarmassi del tutto. Maledetti, io sono al free the steal. Se mi arriva addosso una birch, la disinfesto subito. E se non fosse una birch? Se non fosse una birch, lo disinfesto uguale. Chiamiamola disinfestazione. Che tra l'altro, il potion of leaping dura qualche minuto. Quindi, nel senso, perché non poteva prendersi, faceva un saltello da una parte all'altra, senza dover fare tutta questa strada assurda? Ovviamente non lo sapevo mai. Se no, è inutile fare tutta questa parte di livello. Attento la lava. Ora ci sono? Ora non ci sono. Wow! Sono invisibile, perché ora per sbaglio inciampa cade e muore. È stato bellissimo. Invece no, non succede mai. È ancora vivo. Allora, stiamo arrivando da qualche parte? No. Cos'è questo? Un'altra terra lievitante. Cos'è quello? Un'attrezzo utile, forse? Una macchina di slime block? Su, serio? Che ci catapulta dove dobbiamo andare. Eh, ma gli altri come li ritrovo? Sì, è un picchino gli altri. Usa il chest. Che c'è dentro? Un redstone block. Sapevo che serve una redstone. Qualcosa di redstone per farlo partire. E slime ball. Sì, qui ci gioco. Mi ci appiccico le mani e poi la stacco via come se fosse per le molte. Una caramella, sì. Sì, che bello. Vai a vedere il chasm qua, il buco. Che bel buco! Un po' troppo profondo. Non c'è modo di passare. Invece no, perché in una delle nostre snapshot avevamo visto come utilizzare le macchine di slime block. Ciao! Ciao! Olivia, ma ciao! Ah, ci sono andata anche loro. Ora, Ruben, accorimi in conto e ti tira un calcio al volo. Sono così infelice di vederli. Visto che non c'è Petra, posso flertare con Olivia. Oh, che carina. Pensavo che ci saremmo persi per sempre, Ruben. Ciao, Ruben. Venterai la nostra cena adesso. Ma no! Non abbiamo tempo per questo. Non ti preoccupare. Ho trovato una via alternativa. Chi sa dove sono le altre? Il maiale. L'orologio sta attichettando. L'importante è che noi troviamo una via per uscire a costo di abbandonare i nostri amici. Quella specie di macchinetta di slime. Solo mi ricorda la macchinetta di Bing Bong. Bing Bong! Bing Bong! Cosa facciamo? Cos'è sta roba? Potremmo utilizzarla. Tu sei brava con le redstone. È una macchina volante che ci potrebbe portare dall'altro lato. Ma è veramente brutta. Da cosa lo dici? È in brutte condizioni. È brutta. Puoi sistemarla, vero? Non lo sa. Crede che non sia la sua portata? Dai, ce la farai. Ce la farai. Tu sei la migliore redstoneiana dopo Eligard. Quindi... O almeno quello che dobbiamo farle è credere. Visto? Guarda, osserva, osserva. Col potere infuso dai tuoi occhi la renderà in belle condizioni. Non ha neanche senso tutto questo sistema. Immagino che Igor sapesse quello che stava facendo in realtà. Sei seduta a fame. Eligard l'ha detto che non è una brava ingegnera. È ovvio che alla fine sei scoraggiata. Ma anche il maiale crede che tu sia un incapace. Quindi devi darti all'impica, secondo me. Dille che lei ha torto. E smettetela di cadere ogni volta che clicco qualcosa. Jessie? È il più grande ingegnere di sempre di redstone. Ed era nell'ordine della fenice. Eh, della va bene. Eh, va bene. Della questa fenice. Mamma mia. Guarda. Come noi. Come possiamo essere noi? Quelli che salvano il mondo se non abbiamo quello che serve? Sorin e Albo stanno lì a lamentarsi tutto il tempo. Il più grande guerriero della storia non si ricorda neanche come si chiama nessun lungo dei piedi. E Magnus è morto perché è inciampato. È una tragedia diventata. È un po' in depressione al momento, poverina. È un po' in depressione. È un po' in ragione. Buttiamoci nella rada? Tutti insieme. No, sono un maiale. Un pezzo alla volta così adesso si consaga. Se l'ordine fa questo, come possiamo farlo noi? Noi siamo meglio. Il mondo ha bisogno di noi. Sì, sì, sì. Quindi adesso andiamo a cucinare. Il maiale? Volendo. Ma no. Cioè, loro hanno sconfitto l'Ender Dragon. Noi ne abbiamo neanche sconfitto le zanzare in casa tua l'altra estate. Eh, effettivamente, dovevo farlo. Ma noi abbiamo riunito l'ordine. Ne abbiamo anche ammazzato uno e un altro ha tradito. L'altro ha perso la memoria e quell'altro ci odia. È una bella famiglia. Noi abbiamo fatto anche un gioco di ruolo con Soren. Era... Giocava a Skyrim ed era più forte di noi. Pazienza. Usava il mago guerriero, è imbattibile. Io ero lì con il ladro che si mangia da solo i piedi. Ma che grande di io. Era vero cibo rimasto. Vai, darò un'occhiata ancora una volta. Mmm... Questo slime è appiccicoso. Mmm, è una redstone rossa. Mamma mia. Penso di capire cosa stai facendo. Cosa? Jesse, prendi questo pistone. Ce l'avevo in tasca per le evidenze. Farò diventare uno sticky piston. Piazzalo dall'altro lato e con un redstone block. Hai capito? No. Con quella faccia. Con quella faccia. La mia risposta è più sicura. Ma guarda che cosa mi ha ricordato con quella espressione. Un po' lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci. E' un po' gli schiaccianoci che si legavano per Natale. Ma che bello. Ok, guardala. E l'ha guardata veramente? Devi fare una... Vai a parlare col maiale. Parla col maiale. L'unica persona su cui va d'accordo veramente. Mmm, 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 mmm. Dai, stai va bene. Stai tranquillo. Sì. Tu no. Eh, tu no, purtroppo. Ma dice che se ne accorgi se lo sto cercando di insultare. No. No. Va bene. Allora, devo fare uno sticky piston. Quindi, come sappiamo, sticky piston e redstone tutte intorno. Ecco fatto. Adesso sono diventate rosacce queste, tra l'altro. Ecco fatto. Abbiamo, anzi, ovviamente per migliorare un pochino di più, quando c'è poca bontà d'animo, vedete, si toglie lo sticky piston e si fa... Mi è venuto! Eeeh! Eeeh! Che forte che sono. Non è lo sticky piston, però. Sì, ovvio. Quindi ti do due. Ora ci metto lo piston, con questo, vedete, lo slime block, lo redstone qua, sto creando, sto creando potenza, ed ecco, fatto, la mia creazione! Eeeh! E' schifosa! E' schifosa! E' venuta male, pazienza, però è stata bella. Abbiamo lo stick piston e ora lo uso, no, non usalo. No, ti ha dato l'olivia, che bello. Usa olivia! Ora! Hai messo il... No che non l'ho messo, stavo parlando con te! Ma questa cosa non si starte senza loro. Ok, lo faccio, lo faccio! Allora non segnami che posso parlare con te. Renditi muta occupata. Tu, 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 tu! Ok! Ah, via! Piazza... E se piazzasse il maiale c'è il pistone? Al posto del pistone va! Aspetta dove? Allora, qui il redstone, sì. Qui il pistone, yaaaa! E ora ci siamo Vai, fai partire i pugnetti E sta funzionando Grazie a questo sistema Noi potremmo andare Dall'altro lato Frinta Sono fiero di te Grazie Jesse, grazie a quello che hai detto prima Mi ha aiutato davvero Tanto Basta flertare No, ho un problema Arriva anche gli altri Vorrebbe ritrovare gli altri Sono arrivato, sono arrivati anche gli altri Cosa hanno visto che li spaventa tanto Go, go, go Non serve che glielo dici Sono andati subito Ma come le attivi Ok, attiva, attiva Salta Salta Jesse All'ultimo secondo Salta Incredibile Cadete tutti Stupidi esseri Per poco Siamo tutti bene? Stiamo pattinando Ricordo qualcosa Ma è legato Non aver costruito una cosa come questa? Sì, nel nether Sta ricordando Avevate paura di salirci sopra Davvero sta ricordando? Cosa ha senso? Predi in giro Soren Predi in giro Soren Anch'io ho paura di volare Davvero? No No, non davvero Volevo vedere se veramente Avrei paura Che cattiveria Che bello Ok Siamo arrivati Sta vomitando Vomitano tutti Sì, il Soren e il poverino Gli mancano gli endermen Veramente E siamo arrivati Dall'altra parte La cosa bella È ovviamente il fatto Che Ivor Non potrà mai più Arrivare da questo lato E quindi È bloccato Grazie a noi No, magari riuscirò A capire come si fa A raggiungere La strada giusta Dal labirinto E Siamo Arrivati Nel laboratorio Segreto Di Ivor Come sento la della cobblestone Per farsi i muri Praticamente Sta coltivando Una specie di lapislazzuli Luminoso Bello Voglio anche io Che cos'è sta roba Rosa Ma no Ok Quindi Noi vi ringraziamo tantissimo Passate in questa nuova puntata Di Minecraft Style Mode Non vediamo l'ora di sapere Come continua Vi ringraziamo tantissimo E Alla prossima Con Nietà Ano nuovo Ciao 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 Ciao